musica 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 la foto bella lì ma mica sono le nostre lì che erano quelle nostre? no della bicicletta io della motomira KTM KTM c'hai tu? allora signor roberto oggi qual è la nostra tappa? oggi la tappa è il divertimento dove arriveremo? dove arriveremo? questa è una bella domanda ci fermeremo Cassano Murti ah ecco, Cassano Murti addirittura partiamo da? Taranto da? Giorgio del Collo ah ok perfetto il percorso sarà di una ventina di chilometri all'andata venti 25 chilometri all'andata e venti 25 chilometri all'andata bellissimi bellissimi per l'una cerchiamo di stare per l'una stiamo a casa? sì 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 sicuro? noi sì non Grazie a tutti 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 Salute Grazie a tutti 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 Grazie a tutti